Buongiorno per Natura Animale Documentario, adesso in diretta andiamo a portare la colazione alla nostra carissima amica che sta covando. Buongiorno. Vai su Fociccia, saluta, vai. Vai su. Vedi. Ciao. Ecco qua, il secco, il pastone, il pastone che adesso andrò a mettere. Sì, è buon'età. Mi piace. Non ci c'è. Vai, vai, vai. Mi lasciamo tranquillo adesso. Vai. Perfetto. Non ti ho visto. Ok. Ok. La forma. Come? A posto. Alla prossima.